Buongiorno a tutti, oggi esploreremo le strategie di allocazione di portafoglio applicate alle fasi economiche. Con una solida base di dati e codice Python condividerò con voi le analisi e gli strumenti per comprendere e applicare queste strategie. Anticipo che questo video potrebbe sembrare molto tecnico ma darà delle soddisfazioni se seguito fino in fondo. Questi argomenti sono già stati in parte trattati nel video che spiega come suddividere e classificare i periodi storici nelle quattro fasi economiche, che leggo in descrizione. Tuttavia questo video ha l'obiettivo di capire le performance di queste asset allocation proposte. In queste slide riprendiamo ciò che è stato trattato nella parte dei cicli economici. Quindi in un determinato mese viene classificato un periodo sulla base dei valori di GDP e inflazione in quattro fasi diverse. Abbiamo la fase di recovery e ripresa con bassa inflazione e alta crescita del PIL. Overito sul riscaldamento con alta inflazione e alta crescita del PIL. Reflection, flessione con bassa inflazione e bassa crescita. E stagflation, ovvero stagflazione con alta inflazione e bassa crescita del PIL. Ogni fase ha associato un determinato settore o un determinato asset economico. In quanto a seconda della situazione economica ci sono settori o asset di investimento che performano meglio di altri. Incrociamo quindi quelle che sono le allocazioni che è basata sulla teoria e capiamo le performance in ogni fase economica. Prima di entrare nella parte delle performance tratto un dato tecnico ma molto importante che sarà evidente quando tratterò il codice Python per chi vorrà riprodurre le analisi. Quando infatti si estraggono i dati storici del GDP e inflazione è necessario modificare la data associata ad un determinato valore e posticiparla. Immagina di avere un calendario davanti a te. Ora, quando parliamo del PIL, prodotto interno lordo, del primo trimestre del 2023, in realtà scopriamo che questo dato solo dopo la fine di quel trimestre, quindi ad aprile, sarà disponibile. Ma se guardi il dataset da cui prendiamo questi dati, condiviso dalla Fred, vedrai che il PIL è contrassegnato come data all'inizio del trimestre, cioè il primo gennaio 2023. Ecco dove sta il punto. Se usiamo il dato così com'è, è come se stessimo barando perché agiamo come se sapessimo già cosa succederà in futuro. E questo non è corretto perché in che fase siamo lo scopriamo solo quando escono i numeri relativi al GDP e inflazione, quindi quando questi dati saranno disponibili. Quindi per correggere questo spostiamo il dato di tre mesi in avanti nel calendario, così quel dato del PIL dal primo gennaio verrà spostato al primo aprile. Lo stesso vale per l'inflazione, o meglio un ragionamento simile. Ora, cambiando la data, potresti notare che alcune cose cambiano. Ad esempio, se prima avevamo una fase di stagflazione a gennaio, ora spostando i dati quella fase potrebbe apparire in aprile. Questo può cambiare come interpretiamo i dati, ma è essenziale per assicurarci di non barare e fare supposizioni sul futuro. Abbiamo quindi ritorni medi mensili per i vari asset nei quattro scenari chiave. Quindi, l'overheat, recovery, deflation e reflection, basati sulla crescita economica, alta o bassa, inflazione alta o bassa. Nello scenario di overheat, la maggior parte degli asset ha un rendimento negativo. Gli ETF legati all'energia, quindi gli Y e E, hanno avuto il miglior rendimento. Abbiamo poi buone performance per le utilities e i consumer staple, relativamente a quegli ETF IDU e YK. Mentre YC, che traccia il settore dei beni di consumo discrezionali, ha avuto il rendimento peggiore. Uno dei rendimenti peggiori. Per quanto riguarda invece la fase di recovery, vediamo che gli asset hanno generalmente un rendimento positivo. Quindi, gli ETF YR, che traccia il settore immobiliare, il settore sanitario, YK e le utilities IDU hanno performato bene. Andiamo poi alla fase di reflection, con bassa crescita e alta inflazione, in cui gli ETF legati alla tecnologia, YW, insieme ai ciclici, agli energetici e all'industriale, hanno avuto il rendimento più alto. Nella fase di reflection, quasi tutti gli asset hanno avuto rendimenti positivi. Gli ETF legati ai beni di consumo non ciclici, YK e quelli legati ai materiali, YM e il tecnologico, hanno avuto rendimenti molto simili e sono tra i migliori. Ora, andiamo a confrontare i lesi portfolio, ovvero le allocazioni che rimangono stabili nel tempo, a prescindere dalle condizioni macroeconomiche e quindi le fasi economiche. Andremo poi a confrontare queste con l'SP500, che rappresenta il nostro benchmark. In particolare andremo a trattare il permanent portfolio e l'all weather portfolio. Il primo risulta semplificato, in quanto ha un'allocazione equamente distribuita tra cash, qua ETF SHY, l'obbligazionario con ETF TLT, lo stock con l'ETF IWV, che rappresenta l'SP500, e l'ETF GLD, che invece rappresenta l'oro. Il secondo invece, quindi lo weather portfolio, è una versione più completa contenente le versioni obbligazionarie. Quindi, abbiamo un 21% di bond in città dell'inflazione, un 25% di treasury bond, un 6% di corporate bond, abbiamo poi un 15% di commodities, che qua sono stati allocati in oro, un 14% in bond dei paesi emergenti e un 19% in stock. Queste allocazioni sono state comparate tra di loro considerando un periodo pari a 20 anni e 4 metriche differenti, ovvero i ritorni annualizzati, lo SHARP ratio, cioè il rendimento rischio ottenuto dividendo i ritorni medi dalla volatilità, e il max drawdown, ovvero la massima perdita subita nel periodo considerato, e il karma ratio, cioè il rapporto tra il rendimento annualizzato e il drawdown massimo. Si nota come il ritorno annualizzato è a favore dell'SP500, con una massima perdita di circa il 50%. Tra i due portafogli, l'all weather sembra avere un ritorno maggiore, con uno SHARP ratio maggiore dell'SP500. Questo rendimento medio, però, a detta di molti investitori, a vezze e a rischio, può non risultare sufficiente. Andiamo ora invece ad analizzare le performance dei portafogli permanent e all weather nella loro versione tattica, ovvero con un'allocazione dinamica dipendente dalla fase economica secondo la classificazione presentata precedentemente. Riprendiamo la teoria spiegata nel video precedente che vi lascio in descrizione. Facendo riferimento alla fase di recovery, ad esempio, l'allocazione suggerita è 50% in stock e 50% in obbligazioni, che passa ad un 50% in commodities nella fase di over-eat. Applicando un 25% ad ognuna di queste fasi economiche, quindi associando una percentuale di accadimento similare ad ogni scenario, si ottiene proprio il permanent portfolio, spiegato precedentemente. In questa slide, invece, viene ripresa l'allocazione dinamica del portafoglio All Weather, che contiene una varietà di asset finanziari più ampia. Queste non sono allocazioni inventate, ma in realtà sono presenti in letteratura. C'è anche un libro che li presenta e che vi allego in questa slide. È un libro di Luca Giusti che si intitola Portfogli per l'investitore. Quello che tuttavia non è trattato su questo libro sono due aspetti che secondo me sono fondamentali. Il primo è capire come suddividere il periodo storico nelle quattro fasi che menziona, aspetto che ho trattato nel precedente video e riprendo qua. Il secondo è il backtesting di queste strategie dinamiche, che non sono presenti nel testo, assieme alle relative performance, che tratteremo nelle slide seguenti. Ecco ora il grafico riferito all'allocazione dinamica, in cui confrontiamo i portafogli dinamici con la strategia buy and hold applicata all'SP500. È stato testato un ulteriore portafoglio con i soli titoli azionari in modalità dinamica. La teoria è stata anch'essa spiegata nel video precedente. In sintesi si ha una diversa allocazione su diversi settori, proprio considerando il regime economico. Tale strategia tuttavia sembra non superare il benchmark, né in termini di rendimento annualizzato, né in termini di rapporto rendimento-rischio, soprattutto considerando ulteriori costi di transazione. Se invece confrontiamo le versioni dinamiche del permanent or weather portafoglio con le loro versioni statiche, anche queste non sembrano essere vincenti sulla strategia lesi. Tuttavia, come già trattato precedentemente, tale dinamicità può non essere premiata, perché la classificazione di un determinato periodo viene shiftata in avanti nel tempo. Andiamo ora all'ultima allocazione, una allocazione dinamica che è stata ottimizzata ulteriormente tramite il codice Python. Per ogni regime siamo andati a identificare i settori più performanti, il modello permanent portafoglio customizzato, che quindi alloca in maniera ottimizzata solamente quattro tipi di strumenti finanziari. Sembra battere il benchmark in termini di ritorno, ma con un rischio minore. Andiamo ora invece ad analizzare la versione all weather ottimizzata. Ad una che considera sempre le stesse tipologie di ETF dell'all weather, ma che ha un vincolo di diversificazione. Infatti, in ogni fase economica, in questo tipo di versione, è necessario investire almeno 3 ETF diversi. Questa risulta avere un rendimento decisamente superiore, con un livello di rischio leggermente superiore alla strategia buy and hold dell'SP500. Questo grafico rappresenta una tabella di riassunto tra le varie strategie e quella di benchmark. In generale, le strategie lesi presentano un buon compromesso. Le strategie dinamiche ottimizzate nella parte sottostante della tabella rappresentano un'alternativa altrettanto valida, con uno degli share ratio più elevati. Quindi, per applicare le ultime due strategie dell'all weather, andiamo ora a capire l'allocazione associata ai quattro regimi economici differenti. Partiamo dal portfolio più diversificato, che è un vincolo minimo di diversificazione di 3 ETF. Da un punto di vista di allocazione, abbiamo quindi tre colori diversi per ogni fase economica. In basso vedete invece l'allocazione con più alto rendimento e più alto rischio, che presenta due ETF per fase economica. Notate che i due ETF presenti nella versione in basso sono anche presenti nella versione superiore. C'è però un terzo ETF per ogni fase con altrettante buone performance. Ad esempio abbiamo un'allocazione che vede nella fase di over-eat un'allocazione di un 20% in utilities, quindi con l'ETF IDU, e un 80% in energetico. Nella versione più diversificata, il settore energetico passa ad un 60% e il 20% restante viene invece acquisito dai consumer staples, con l'ETF YK. Nella fase di straflazione, così come l'abbiamo definita, le maggiori performance storiche si sono avute con un 20% di energetico e un 80% di tecnologico. Nella versione più diversificata subentra invece l'ETF YK, con quindi un 20% in beni durevoli. Questa è quindi l'allocazione adatta in questo periodo storico, dato che attualmente siamo ancora in straflazione, o meglio, gli Stati Uniti sono ancora in straflazione. Visto che questa allocazione si riferisce chiaramente ai dati di US. Il video è stato anche fin troppo lungo, quindi tratterò la parte Python in un video dedicato a parte. Ad ogni modo metterò comunque nella descrizione di questo video il link relativo al file di Google Collab per riprodurre queste analisi. Spero che questo video possa essere stato interessante. Scrivete nei commenti per qualsiasi richiesta di dubbio e chiarimento.